Giovanni Zuccalà è il nuovo sindaco di Butera. Il neosindaco vince con il 60% pari a 1619 voti ricevuti, sbaragliando così l'uscente Filippo Balbo, che di voti ne ha ricevuti solo 1068, che corrispondono al 39%. La piazza di Butera gremita di gente per acclamare il nuovo sindaco, Giovanni Zuccalà. Questa è una grande soddisfazione non per me soltanto, ma per tutta la mia squadra e soprattutto per Butera, perché quelli che si apprestano ad amministrare Butera sono cittadini liberi e cittadini comuni, soprattutto gente che sa ascoltare, perché la nostra dedizione e questa passione civica viene soprattutto dall'ascolto, dalle esigenze della cittadinanza. Siamo veramente orgogliosi, Butera è orgogliosa di se stesse in questo momento e siamo certi che tutti insieme, ascoltando ancora la cittadinanza, sapremo veramente fare qualcosa di buono per questa città, perché lo merita, tante potenzialità e tante realtà già da continuare a sviluppare. Cosa ti aspetti dal nuovo sindaco di Butera? Siamo pronti a lavorare per la città e siamo contenti del risultato. Ringraziamo la città e tutti i buteresi per averci dato la fiducia. Oggi vince la politica, perché la nostra è stata una compagine formata da forze politiche, una lista civica fatta da partiti. Vuol dire che la gente ha bisogno di tornare a credere nella politica e siamo pronti a prenderci questa responsabilità. Questo sembra essere un nuovo inizio per Butera, cosa ne pensi? Il dato è che una città che era amministrata dalle destre, da un sindaco in carica che era il presidente dell'SRR e quindi aveva anche una forza specifica. Oggi viene battuto qui a Butera anche in maniera netta. Adesso vedremo i dati nel resto della provincia, però siamo contenti del dato del sindaco, di Zuccalà, della lista. È una lista progressista con forze moderate e da qui bisogna fare ripartire un ragionamento che possa investire anche, speriamo, una primavera in Sicilia. Cosa vi aspettate dal nuovo sindaco? Lavoro, ha ricevuto tanta fiducia dai cittadini, adesso speriamo che Butera cambi meglio. Siamo fiduciosi e ci aspettiamo veramente il meglio da lui. Siamo abituati a vederlo negli ospedali, adesso si dovrà impegnare in comune. Una vittoria schiacciante questa di Zuccalà? Sì, mi sembra che c'è tantissima differenza. È stato fatto il vuoto, diciamo. Abbiamo fatto, tanti cittadini hanno collaborato per il nuovo sindaco perché se lo merita. Speriamo bene tutto, speriamo che questa nuova amministrazione possa portare benessere al paese più che altro. Auguroni al nuovo sindaco e grazie veramente, è stata una bellissima vittoria. Una vittoria appunto schiacciante, cosa ne pensa? Allora, siamo penso tutti felici perché proprio Butera ce ne aspettavamo una vittoria giusto di Giovanni perché è una persona meravigliosa, lo conosco personalmente, quindi è il sindaco di tutti, il sindaco veramente del cittadino. Abbiamo scelto di sostenere Giovanni Zuccalà per l'umanità, per la splendida persona che è lui, disponibile per tutti i cittadini, un grande cuore che serviva Butera da anni. Grazie a questo esito, 8 dei 12 seggi in Consiglio Comunale andranno alla lista Il Futuro e Adesso, che ha ricevuto ben 1597 voti. Alla lista Tutti in Comune e Liberamente ne spetteranno 3, oltre al seggio attribuito al candidato sindaco perdente. Il cittadino buterese richiedeva questo cambiamento e allora sono andati tutti a votare per dare la propria voce, per dare il proprio impegno per Butera, perché i buteresi amano Butera e oggi ne è la dimostrazione. È stata una grande battaglia, abbiamo presentato un grande programma e la gente ha avuto fiducia in questo. Stiamo lavorando, lavoreremo e scommettiamo su noi stessi che per 5 anni avremo la possibilità di cambiare le sorti di questo paese.